Qua rinera azzurri un saluto da Roberto Scherpini collegati con il Franchi di Firenze dove il signor Aureliano, direttore di gara di questa partita, entra in campo con Inter in tenuta arancia, questa sera Fiorentina in casacca viola. Attenzione all'errore, e qua Lautaro va l'uno contro uno con Ranieri, si allarga, attenzione Lautaro, il tiro, la palla è alta sopra la traversa, c'è una parata però, c'è la deviazione di Terracciano e allora prima occasione al minuto nove, il destro di Lautaro trova, vedete che cerca il tiro, eh sì, e fa una bella parata Terracciano. E fa una bella parata, prima occasione per i ragazzi e primo corner della gara. Frattesi esterno per Darmian, bella la giocata veloce, questo è regolare, Turam se ne va da solo, entra in aria, l'assiste, il tiro, il salvataggio, il salvataggio. Danno il fuorigioco, dal fuorigioco, rivediamo, secondo me non è fuorigioco, non so se lo vanno a rivedere, vedete che arriva come una furia qua e viene anticipato di un nulla. Carlos con l'intervento, infatti non era fuorigioco, c'è il corner, occasionissima, occasionissima. Parte la traiettoria, palla dietro, come un destra, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il toro, il toro, il toro, il toro, il toro. In vantaggio, la va a prendere sul primo palo e la mette alle spalle di Terracciano, incredibile. Primo pallone buono, palla in buca, rivediamo, la batte bene Aslani, lui va sul primo palo e la gira dove non può arrivare Terracciano, diciannovesimo gol in campionato, rimane dolorante a terra un giocatore della Fiorentina e Parisi. La gira, la mette all'incrocio, protestano, sbraccia leggermente Lautaro. Faraoni, prova ad andare al cross traiettoria, su cui c'è un colpo di testa, una mischia, pericoloso, il tiro, Jan Sommer! La mette in calcio d'angolo, il tiro ravvicinato di Buonaventura e fa una grande parata. E fa una grandissima parata, rivediamo quest'azione, ne esce una mischia con la palla che rimane lì. Buonaventura si coordina, tira, Sommer smanaccia, occasione per la Viola che guadagna il suo secondo tiro dalla bandierina. Ancora Buonaventura, cerca di saltare frattesi, finta contro finta col mancino, palla ad uscire, Faraoni lo attaccano, pericolo, attenzione, Zola, il tiro, si butta e devia in calcio d'angolo. Bastoni con una grandissima reattività. Il tiro di Zola, che era in posizione regolare in questo caso, viene vanificato dal tuffo da parte di Bastoni, Quanto mai provvidenziale. Bastoni imposta lui con un bel pelo d'erba per Turam, che si gira e a chi la dà? Vediamo, grande palla per frattesi. Attenzione, prova a partire Lautaro, frattesi, palla profonda, Lautaro carica al destro e strozzato nella traiettoria da Martinez quarta. dall'altro Martinez non riesce, peccato, perché era una buona opportunità al minuto otto. Parisi riesce ad appoggiare lateralmente per Martinez quarta, che la butta lunga, cercando Zola, che si libera con un'irregolarità. C'era il fallo qua, ragazzi. Ha dato il vantaggio, non ha dato il fallo. Grande parata di Sommer sul tiro di Zola, ma mi sembrava ci dovesse essere un'irregolarità, perché Zola si è liberato con una spinta di De Vrij. Protestano i nostri ancora. Dunfris, palla dentro per Lautaro, scivola, poi Ranieri gli dà un colpetto, calcio di punizione. Prima scivola, poi lui gli dà un colpetto. Riveliamo l'azione di prima, guardate, ma questa è una spinta clamorosa. Lo avrebbero annullato al VAR. Lui controlla, si gira, Pavard smorza, la palla arriva docile fra le braccia di Jan Sommer, ma era fallo, fallissimo. Palla nel mucchio, attenzione, colpo di testa, Zola è solo, esce con i pugni Sommer, abbatte, poi c'è il salvataggio sulla linea. Vogliono il calcio di rigore per il fallo su un Zola, che si è preso un colpo in faccia. Vediamo questa palla lunga, la sponda, poi Sommer esce con i pugni, poi il colpo di testa e il salvataggio. No, prende il pallone e poi anche il giocatore. Si temporeggia su un episodio che potrebbe essere determinante. Lo va a vedere, lo va a vedere. E allora da rigore. Se lo va a vedere vuol dire che è rigore, di solito è così. E va detto, per noi è rigore, guarda tu. E su una dichiarazione del genere ovviamente non può fare diversamente. Vediamola, eccola qua, l'inquadratura. E' nato prima l'uovo o la gallina qua? E l'arbitro dice che ha visto al VAR ed è calcio di rigore. Nico González, buon battitore dagli 11 metri. Non è ancora tutto pronto, aspettiamo. Aspettiamo il fischio di Aureliano che ha temporeggiato. Ecco il fischio, parte González, il tiro. Parato! 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 Ha tirato un tiro che potrei fare io onestamente. E al minuto 31, il rigore di Nico González. Parato da Ian Sommer. Mandragora pronto a battere. Butterà la palla nel mucchio. Tutti i giocatori viola saltano, vanno all'interno dell'area nerazzurra. Colpo di testa di Nico González, attenzione alla mischia. Bissek, palla al limite, Ranieri, la palla che si impenna. Poi allontana Aslani, palla che viene recuperata da Faraoni. Guarda il cronometro Aureliano. Faraoni parte con un dribbling, pericolo, guadagna al fondo il cross. Spazza via Aslani, recupera Maxime Lopez. Ancora per Faraoni, non farlo crossare. Parte la traiettoria, il colpo di testa. Una mischia, allontana la nostra difesa. Recupera Ranieri, fischia la fine Aureliano. Non fischia. E allora palla in gioco, Mandragora ancora. Prova ad andare. Il cross, Murato, la recupera Sanchez, che non riesce a servire i compagni. È finita! È finita! È finita! L'Inter spugna il Franchi. Vittoria di carattere dei ragazzi. 1-0 con il gol di Lautaro. E l'Inter torna in testa alla classifica. Alla vigilia di Inter-Juventus. Alla vigilia di Inter-Juventus. Alla vigilia di Inter-Juventus. Alla vigilia di Inter-Juventus.